Cari amici di Runway Sport, ben trovati da Onofre Colucci qui da noi Cattaro. Si parla di calzature di mountain running, trail running e sky marathon. Si parla ovviamente di la sportiva Uragano GTX. Calzatura impermeabile con ghetta integrata dedicata alle competizioni winter running. Particolarmente adatta per utilizzi su terreni off-road, nevosi e ghiacciati. È pensata per tutti quei trail runners che necessitano di un prodotto per correre in allenamenti e in gare nei mesi invernali. La suola aderente permette di affrontare al meglio superfici scivolose e di mantenere il grip su terreni cedevoli o ghiacciati grazie alla tasselatura molto pronunciata e alla compatibilità con chiodi amovibili AT-GRIPS Spikes. La ghetta idrorepellente Sockshield Guiders protegge dall'entrata di sassi e fango ed il sistema dell'acciatura integrato, rapido e intuitivo, con tasca, portalaccia o scomparsa, velocizza le operazioni della stessa calzata. Il sistema dell'acciatura è integrato con la struttura della tomaia interna. Tale soluzione permette quindi di regolare i volumi ed il livello di aderenza del piede della stessa calzatura per una corsa precisa e stabile anche sui terreni traversi, la totale assenza di cuciture esterne e la membrana super flessibile, impermeabile, traspirante e ingoratex fanno di uragano la perfetta calzatura da winter running per off-road runners rivolti a quel mondo degli allenamenti e le gare fatti in situazioni molto estreme, quindi in pieno inverno. Quindi ricapitoliamo. La tomaia in single mesh idrorepellente anti-abrasione con stampa in sublimazione Sockshield Guiders, la fodera in Gore-Tex Flex Construction, il plantare in ortholite mountain running ergonomic di 4 mm, l'intersuola in memlex EVA ad iniezione con inserto stabilizer, la suola in mescola friction AT aderente, compatibile con chiodi amovibili AT Grip Spikes, peso scarpa uomo 350 grammi, peso scarpa donna 300 grammi, con un differenziale di soli 10 mm, è tutto da Runway Sport a noi Cattaro. Un caro saluto da Onofre Colucci, seguiteci su runwaysport.it. Ciao ragazzi, a presto.